Agustino Agustino perché stiamo aspettando a te? no dico perché stai parlando perché stiamo aspettando a te? oh stai aspettando a te? mangiate che mangio dopo tu vuoi? come no? allora ti domanda ti domanda tu non ci diri sempre che sei figlio mio e sopra ti dici Alfonso che è? tu ci rispondi Alfonso a mio mi viene pace capisci? ti domanda ti domanda vieni qua vieni qua ti domanda 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 troppo figlio tutta empia di fiora chi è? oh il signor bebe Fuoriesca, fuoriesca pure Oh per bacco, devo uscire, se disturbo tornerò un altro momento No, 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 ma io dicevo fuoriesca come per dire entra pure, trasite Lei è sempre troppo gentile e voi come, come state? L'estate va io buono, è l'ovirno che mi viene un po' di aromatismo Basta Non parlo più Basta Basta Se io mi trovo Basta Non parlo, cito Basta 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 Se io Mi trovo Basta 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 Prego, prego, accomodatevi, accomodatevi, contessina, contessa, prego, accomodatevi, accomodatevi, gorgo, prego Cavaliere, le presento mia zia la Contessa di Petra Perciada, sua figlia la Contessina di Petra Perciada, mio padre il Marchese Domenico Baiunco di Roccavalle e mio zio il Principe di Casador.